Proteste da nord a sud, ma questa volta a lamentarsi sono proprio loro, i profughi accolti nel nostro paese. I motivi? Eccoli. A Verona, nella frazione di Avesa, i profughi ospitati nella tenuta di Costa Grande hanno occupato la strada statale. Eccoli in queste immagini di VN foto. Lamentano scarse condizioni igienico-sanitarie, ma soprattutto protestano per la posizione del centro di accoglienza. Non vogliamo stare nella foresta, isolati. Vogliamo stare in città, dicono. A Sassari stesso problema, i profughi vogliono stare in città. Il centro di accoglienza di Palmadula proprio non va bene a questi 94 ospiti che hanno protestato in strada fino all'arrivo delle forze dell'ordine. A Deraclea continua il malcontento dei profughi per le condizioni di vita all'interno del residence in cui sono ospitati. Già qualche giorno fa erano scesi in strada chiedendo sapone, acqua e luce. Sassomarconi, provincia di Bologna, gli emigrati ospitati nel centro Villa Angeli hanno manifestato con urla e striscioni per avere il permesso di soggiorno. Ma non solo. Si sono lamentati anche per la scarsità di biglietti dell'autobus gratuiti e della mancanza di aria condizionata. Con il caldo non c'è il condizionatore? Si, con il caldo non c'è niente in dentro.